Quando si definisce un progetto bisogna poi identificare anche i profili necessari per arrivare a realizzare questo progetto. Quindi chiaramente non è giusto e corretto entrare nei particolari. Abbiamo deciso, e quando dico abbiamo deciso, la società ma con la condivisione di tutte le componenti societarie e siamo arrivati a questa conclusione. Questa conclusione è una conclusione sofferta, non siamo sproveduti, siamo tutta gente di grande esperienza, soprattutto in questo settore, per cui abbiamo un obbligo, l'ho detto poco fa, di rispettare da una parte gli uomini e di considerare anche dei giocatori, questi giocatori sono dei nostri asset patrimoniali, quindi non si può mai immaginare che noi intendiamo depauperare questo patrimonio. Ma le scelte vanno fatte con grande coraggio, credo che questo sentimento sia da sottolineare, il coraggio delle proprie azioni. Noi abbiamo deciso di far così, in modo omogeneo, tutti insieme, sicuri di fare bene della società, senza mancare di rispetto a due professionisti. Il fatto di dichiararlo ufficialmente purtroppo fa parte di questo mondo, non mancheremo di rispetto loro perché sicuramente non c'è motivo per non mancare di rispetto, si alleneranno con noi, l'ho sottolineato come ci sono dei doveri e dei diritti e noi li rispetteremo. È possibile che alla fine vada effettivamente la Juve Cardi o lo possiamo escludere? In questo momento lo escludo perché non ci sono le minime condizioni. Devo dire che come sapete benissimo, oggi il calciatore è protagonista del proprio futuro, per cui innanzitutto bisogna trovare una società che possa anche soddisfare quelle che sono le esigenze del calciatore. E poi la volontà del calciatore è prioritaria rispetto a qualsiasi decisione della società. Però sino a questo momento della Juventus non si vede neanche l'ombra.